Buonasera a tutti, spagnolo e no! Perché dobbiamo parlare di questi video? Iram, chi è Zedda? Chi di cazzo è sti? In attesa del famosissimo ballottaggio tra Fantola e Zedda Differenza tra orgasmo vaginale e clitorideo Come metafora? Ma al primo attimo per spiegare Beh, è molto difficile capire la differenza A sinistra Per quanto riguarda Zedda Vogliamo sapere il tuo pensiero su Zedda Maglio pesce a fuori Esti Fine chi è? Perlomeno Fantola a una certa età È un imprenditore romano Con una certa età Destra, destra, destra Facciamoci il bicchiere della staffa Voodoo 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 Vood